Siamo fermi, siamo addirittura tornati indietro in modo importante a numeri pre-pandemici insomma. Quindi abbiamo perso tutto quello che era stato i passi avanti che avevamo fatto e l'Italia rispetto a un anno, quindi a un unico anno, ha fatto un balzo di peggioramento di ben 13 posizioni passando quindi da quella che era la 63esima alla 79esima, il che diciamo così non è poi particolarmente piacevole. I numeri sono preoccupanti perché ad esempio l'Italia ha avuto un pernogioramento di ben 20 punti su quella che è l'area della presenza delle donne in politica, quindi 20 punti in un anno sono altrettanto importanti e anche le aree che riguardano la parte economica, quindi del lavoro, di quello che è il pay gap piuttosto che della salute e della speranza di vita sono indubbiamente peggiorati. Direi che il globale complessivo vede ancora oggi 131 anni per colmare il gender gap e quindi diciamo così con questo ritmo arriviamo al 2154, quindi ben lontani anche dall'obiettivo dell'agenda 2030 che insieme a tre macro riflessioni che pone profonde che sono la sostenibilità, l'equità e l'evoluzione e l'innovazione che l'evoluzione si porta dietro, nei suoi 17 obiettivi ha anche la lotta le disuguaglianze, la povertà, ma al quinto obiettivo c'è anche il gender gap. Quindi è chiaro che la situazione è molto complessa, molto difficile, sicuramente il contributo che reti di donne tra cui la community, non solo c'è inclusione donna, oggi avete visto ci sono diverse rispetto allo scorso anno abbiamo cominciato a fare rete con il convincimento che la rete dia valore, dia maggiore forza su tutti i tavoli di pressione che noi possiamo fare e la sanità rappresenta uno spaccato molto significativo perché siamo tanti, siamo tantissimi siamo le aziende forse più grandi che oggi ci sono sul territorio nazionale e più del 70% delle professioniste e dei professionisti che sono in sanità sono donne e quindi... Ma non in posizione apicale? Allora il problema che si pone in posizione apicale abbiamo solo il 25% di donne Devo dire, guardate, è una riflessione se può interessare che ho fatto in questa fase della mia vita professionale e di vita personale se sono ora il 25% io sono 20 anni e sono il direttore generale ho detto, cioè effettivamente ho detto in realtà mi sono ritrovata talmente a dover combattere a testa bassa che non mi accorgevo neanche del contesto e quindi dopo 20 anni abbiamo ancora questa situazione e quindi c'è un dovere etico di aiutare le giovani, quantomeno con funzioni di mentor